Si chiama Stella Phillips, una donna che gestisce un rifiugio per cani di randaggi e ha ospitato in casa sua ben 97 cani per salvarli dalla terribile furia dell'uragano Dorian, che in questione sta purtroppo imperversando sulle isole Bahamas. La foto del gesto, davvero eloquente, unione del suo genere, sono state pubblicate su Facebook dalla stessa donna che ha poi commentato e ha scritto Ho pulito i scriventi a non finire, ma non importa quello che conta, è che siamo tutti assicuri e nessuno sia all'esterno. 97 cani accolti in casa sua, ripeto, 79 sono stati sistemati in casa da letto, ma sono stati tutti bravi e nessuno di loro ha nemmeno cercato di salire sul letto. Insomma, una donna generosa altruista, la signora Stella Phillips, che ha ospitato ben 97 cani. A casa sua, un saluto per l'arriano, la notte di teatro.